Sono stati aperti ieri i termini per la sottoscrizione online di altri 4.400 nuovi abbonamenti annuali a 20 euro l'anno destinati solo ai nuovi fruitori che vogliono utilizzare i mezzi pubblici di trasporto, bus e metro senza limiti di corse, esclusione delle linee AMTS Alibus E524 per l'accesso gratuito ai parcheggi scambiatori di via 2 Obelischi Ennesima a Catania. Lo ha stabilito l'Aggiunta Trantino che grazie ad una delibera proposta dall'assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi ha reperito i fondi variando il bilancio di previsione, incrementando le risorse all'entrata, attingendo ai residui dei fondi del PONMETRO 2014-2020 con un abbattimento dei costi degli abbonamenti del 95% e la gratuità totale per i disabili. Un'iniziativa di mobilità sostenibile integrata denominata Catania2Go che nei due anni precedenti ha registrato l'adesione di quasi 18.000 utenti del trasporto pubblico a Catania. Dalle ore 10 di ieri mattina, infatti, è possibile richiedere l'emissione del voucher attraverso la piattaforma Catania Semplice all'interno del portale del Comune di Catania fino alle ore 14 del 18 dicembre, facendo di fatto riaprire. L'utente, dopo aver effettuato l'accesso attraverso SPID o CIE, potrà procedere alla richiesta per sé o per altre persone. All'istanza occorre allegare una copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Per completare la procedura, 48 ore dopo aver fatto la richiesta tramite la piattaforma Catania Semplice, bisogna acquistare digitalmente l'abbonamento per un anno, previo pagamento di soli 20 euro, attraverso l'app ufficiale FC Catania, aggiornata all'ultima versione disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android nei rispettivi store digitali. Per gli utenti che presenteranno istanze nei giorni 8, 9 e 10 dicembre 2023, sarà possibile acquisire l'abbonamento nell'app FC e solo a partire da martedì 12 dicembre 2023. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati inderogabilmente entro le ore 18 del 20 dicembre 2023. Un provvedimento che arriva giusto in tempo e nel periodo pre-natalizio, hanno detto il Sindaco Trantino e l'Assessore Parisi, mirato ulteriormente a incrementare l'utilizzo del trasporto pubblico su ferro o su gomma, anziché quello privato, sulla scia di uno straordinario successo già registrato, di una concreta misura di sostegno della mobilità sostenibile, che ha visto Catania essere la prima città in Italia a spendere in questo modo intelligente le risorse comunitarie del Pommetro, in sinergia all'Agenzia Nazionale per i Fondi di Coesione e su base locale con FC e MTS. Un ringraziamento particolare continuano Trantino e Parisi, vai dirigenti comunali fino a Chiario e Di Caro, e a tutto lo staff delle politiche comunitarie per la celerità con cui hanno reso possibile che altri 4.400 utenti possano viaggiare su metro e bus pagando una somma pressoché simbolica.